ma li mortacci i vostri nel senso buono del termine ovviamente avete chiuso una trattativa un maxi scambio di quelli incredibili tifosi del milan non è che ci avete guadagnato di più ma andiamo per gradi ciao 27 secondi e il gabon vi saluta bella a tutti da me c'ho il televisore acceso non è che sto a guardare femmine nude anche se non mi dispiacere no sta su vabbè su la televisione siamo tornati su questo nuovo video proprio perché voglio parlare con voi di questa maxi trattativa che alla fine ha avuto esito positivo e quindi gonzalo iguain e mattia caldara sono ufficialmente due nuovi giocatori del milan e bonucci che torna alla juventus voglio proprio parlare dell'operazione in sé chi ci va a guadagnare di più io credo che sia abbastanza valese e anche i tifosi della juventus siano abbastanza obiettivi da ammettere che alla fine è una trattativa che sicuramente va a rinforzare va a rinforzare non siamo cinesi il milan e non di poco perché comunque gli vai a dare innanzitutto rinforzi una diretta concorrente con due giocatori de caratura importante iguain è pur sempre negli ultimi cinque anni il miglior il marcatore della serie a con 111 reti nessuno ha fatto meglio di lui caldara va a sostituire un bonucci che torna alla juventus ma è più giovane all'atalanta ha dimostrato veramente cose incredibili alla juventus ovviamente torna bonucci ma è ovvio che la dirigenza della juventus se ha fatto un'operazione del genere scusate se sentite il rumore del ventilatore perché fa troppo caldo sto anche in mutande quindi devo fare attenzione a non abbassare troppo la videocamera perché potrebbe non essere un bello spettacolo e potreste restare anche abbastanza turbati dalla situazione ma detto questo appunto io non credo che la dirigenza della juventus sia sia così ingenua se finora la juventus gli abbiamo visto negli ultimi sette anni vincere sette scudetti consecutivi è ovvio che se hanno deciso di riprendere bonucci e di cedere caldara a iguain un motivo ci sarà io ho cercato di fare mente locale ho cercato di pensare e alla fine ho capito una cosa semplicissima iguain è stato ceduto semplicemente perché cristiano ronaldo ovviamente gli va a bloccare il posto da titolare come punta centrale e anche perché appunto iguain percepisce troppi soldi sette milioni e mezzo di euro all'anno alla juventus che la juventus si va a risparmiare che gli avrebbe dovuto pagare fino al 2021 questa è la base dell'operazione dopodiché arriva lo scambio tra i difensori lo scambio tra i difensori è arrivato perché la juventus pensa che bonucci in termini ovviamente the champions league e non di campionato possa dare quel qualcosa in più rispetto a caldara che sicuramente più deprospettiva perché con le stagioni che passano caldara andrà a migliorare e ad aumentare le sue prestazioni bonucci tra tre quattro cinque stagioni inizierà ad avere un calo però ripeto se il discorso che ha fatto la juventus è questo è ovvio che vogliono provare a vincere la champions league e ritengano appunto che bonucci sia il difensore ideale per farlo è un'operazione che secondo me e lo ribadisco ancora una volta va a rinforzare tantissimo il milan tra l'altro una diretta concorrente probabilmente non per lo scudetto perché la juventus nelle ultime sette stagioni ha dimostrato che sicuramente c'ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre con cristiano ronaldo aumentano esponenzialmente queste queste statistiche però alza la concorrenza delle squadre che stanno subito sotto quindi inter che comunque si sta rinforzando e non poco roma napoli ma io ci metto in mezzo anche la lazio e perché no anche l'atalanta non me ne vogliano i tifosi delle altre squadre è un'operazione che lascia a bocca aperta perché tra alti e bassi è fatta non è fatta è fatta non è fatta alla fine si è fatta e in molti staranno rosicando in molti staranno rosicando perché ripeto iguain è un giocatore che ti può garantire tantissime reti a stagione ed è proprio quello che cercava il milan perché lo scorso anno il milan con kalinic sicuramente ha fatto un investimento che non si è rivelato poi così redditizio in termini di reti fatte e adesso si va ad assicurare io non credo che iguain al milan non faccia più manco una rete anche perché il milan c'ha giocatori importanti sulle fasce che potrebbero servirgli tanti e tanti assist ma poi iguain è anche il giocatore che la palla se la sa prendere da solo per andare diretto a rete diretto al gol all'obiettivo io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questo maxi scambio che alla fine è andato in porto ripeto parere mio e poi siete liberissimi di pensarla come meglio volete la juventus non è quella tra le due che ci guadagna in termini di prestazioni probabilmente ci va a guadagnare più che altro in termini economici il milan ha fatto ha fatto un'ottima un'ottima riuscita con questa operazione io non credevo sarebbe mai potuta avvenire fino in fondo fino a che ci sono le voci fino a che insomma le parti non sono d'accordo non c'è nulla di fatto e invece si è portata a casa un fenomeno iguain e un altro che in prospettiva futura potrebbe diventarlo a fianco a lui ci sarà Romagnoli che sarà un altro prospetto per la futura nazionale italiana voglio appunto sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti quindi lasciate un mi piace su questo video per supportarmi arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio commentate con il vostro parere condividete il vostro il vostro video il mio video alle vostre madri le vostre nonne le vostre zie le vostre cugine le vostre nipoti le vostre solo femmine iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto profilo instagram canale telegram mi seguite anche lì vi invio le feed che youtube non manda così rimarrete sempre aggiornati sui miei nuovi e imminenti contenuti detto questo in alternativa fatelo attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti perché ogni tanto le feed youtube se ricordate mandarle detto questo a voi la parola nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di queste operazioni chi ce guadagnate più secondo voi quello che potrà fare il mira nella prossima stagione non solo in termini di scudetto stava a pensare la juventus scusatemi ma anche in termini di europa league d'altro canto per quanto riguarda la juventus che cosa ne pensate con il ritorno di bonucci che cosa potrà fare in termini di champions league in termini di campionato a voi la parola ragazzi miei io non lo so mi vado a buttare dentro l'acqua gelida perché sono un po accaldato non solo dal caldo ma proprio dalla trattativa in sé perché per noi dirette concorrenti roma tra virgolette ma anche le altre questa potrebbe essere una bella una bella batosta ciao